benvenuti in un nuovo video della soffitta di l'aleppo questo video lo stiamo registrando ancora in emergenza sanitaria io sono a casa mia e posso a casa sua quindi poi non ci sarà in realtà in questo video ci sarà perché vi faremo vedere come si può giocare al palloliere anche a distanza sto rivedendo o tutti i posti del blog per aggiustare correggere vari errori e renderlo un po più carino e mi sono resa conto che di questo gioco ho scritto solo la recensione scritta appunto ma non avevamo fatto quella video mi sembra così strano questo è come visual game che ero convinta di aver fatto la video recensione quindi approfittiamo per parlarvi di questo gioco che è un gioco di parole classico allora ce ne stanno tantissime versioni e adesso si trova ancora ed è stata fatta anche una versione per il cellulare che si chiama Razor questa Ruzle insomma questa versione è stata pure trasformata in un gioco da tavolo ma in realtà è sempre il paroliere questa è una versione molto vecchia e allora questo gioco in particolare è del 79 però è adatto da due o più giocatori da otto anni in su io vi consiglio di giocarsi non tantissime persone perché comunque la plancia di gioco cioè i dadi è abbastanza piccolo quindi se non state tutti diciamo vicini avrete delle difficoltà a vedere questi dadi allora il gioco è molto semplice allora c'è una clessida nella scatola che non funziona più ma dura circa tre minuti anzi dura proprio tre minuti quindi si schizza sulle istruzioni e poi ci sono 16 dadi con varie lettere ogni dato ha diverse lettere non so il criterio con cui è stato scelto il numero di lettere il tipo di lettere e questi si trovano in una basetta che ha appunto 16 alloggiamenti che può essere coperta con una cupola dentro la scatola ci sono anche delle cose interessanti che poi provvederò a vedere e anche una cartolina dell'editrice giochi interessante allora quindi dovete dotare prima ogni giocatore di una penna e di un foglietto poi dovete coprire con la cupola questi dadi e fare un rumore assurdo per mescolarli poi come potete vedere cercate di farli andare ognuno nel proprio posto però qualcuno non ci sarà quindi prima di far partire il tempo li aggiusterete come vorrete e poi farete partire il tempo e allora nel tempo di tre minuti i giocatori devono scrivere quante più parole riescono a vedere in questo modo allora possono collegare le lettere in orizzontale, in verticale oppure in diagonale le parole in questo caso che vediamo? sosa, cosa, caso, seta, tese e così via naturalmente più farete parole lunghe e più questo vi darà punteggio infatti, come vi dice il libretto ogni parola di 3-4 lettere varrà un punto ogni parola di 5 lettere 2 punti ogni parola di 6 lettere 3 punti ogni parola di 7 lettere 5 punti ogni parola di 8 più lettere 11 punti è importante se riuscite a fare il singolare e il plurale il maschile e il femminile di un nome che li mettiate entrambi perché alla fine quando ti avranno finito si conteranno solo le parole che gli altri non hanno scritto quelle in comune si annulleranno quindi potete fare varie manche e decidere quando arrivare oppure dopo un totti manche chi avrà fatto più punti vincerà qui mi dice che le lettere non possono essere ripetute quindi, ad esempio, non si può passare due volte sulla stessa lettera poi rimischiamo le parole chiamiamo Pogli, mandiamo una fotografia e faremo una partita con lui ecco qua, ho mischiato i dadi anzi, ho di nuovo per fare un po' di casino li aggiustiamo ecco sì mettiamocelo in Q che fa sempre bene questa è la Z e non è la N perché è segnata ora faccio una fotografia facciamo una fotografia e la mandiamo a Po poi ti darò tre minuti di tempo da quando riceverà la fotografia e poi ci chiamiamo per vedere le parole quindi a tra poco allora, ho mandato la foto a Po e Po ha avuto tre minuti per fare il video sì sì sì, proprio vero una cosa che potete pensare e comunque mi è stata anche detta che facendo i giochi così ad esempio per telefono oppure mandando le fotografie si potrebbe barare questo è vero però nel senso si potrebbe barare anche quando si sta insieme insomma, se uno sta giocando io penso che se si vuole divertire non è che deve vincere per forza ma non ti metto in gioco non mostra le sue capacità io barare quando non sa perdere o comunque non sa io se ho barare non mi diverto e comunque si vuole una fiducia anche nell'altra persona se mi fido tipo quindi e sbaglio ok, allora dobbiamo leggere le parole che abbiamo fatto e quelle che abbiamo fatto uguali naturalmente non contano non valgono ok, allora leggi tu vai lei l'ho fatto pure io quindi cancella risi risi no ok, riso riso sì sei io sì zie sì zii zii come hai fatto a fare ok, sì, l'hai fatto no, non l'ho fatto sazi no e basta, ho finito allora dimmi di quante lettere sono quattro tre quattro lettere un punto tre lettere e un punto quattro lettere e un punto io ho fatto tre punti scarsissimi io ho fatto SOS ah ma si poteva mettere SOS non lo so è un acronimo, non è va bene, non me lo fai valere DEA ok REI eh? e cancella DEI ZIO REI REI ah REI colpevoli vuol dire si 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 vede che hai fatto il classico si vede che hai fatto il classico no, hai da parole trociate si si, ora si dice così ZIO ok questo non so che ho scritto SIRE addirittura qua si va sull'archeico RISA pure RISA SEDIE come hai fatto a fare SEDIE? quindi SEDIE 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 e si l'ho ricontrollato va bene quindi ho fatto uno, due, tre, quattro, cinque, sei e sette eh, pure quindi ho vinto questa match però potremmo farle anche altre e sfidarci ulteriormente hai vinto questo match questo match, si vuoi aggiungere qualche cosa sul paroliere? si, il paroliere era un gioco che c'era mia cugina e ci giocavamo quando eravamo piccoli ah, e vincevi? non lo so, non me lo ricordo ah ricordi sfumati e come ma non ti ricordavi più le regole? è perché ho ho problemi di memoria ah, va bene sì, sì sono un anziano e ho problemi di memoria va bene allora vogliamo ricordare a tutti i nostri ascoltatori che noi abbiamo anche un canale e un una pagina abbiamo anche un canale YouTube se siete capitati qui per caso abbiamo anche un canale YouTube una pagina Instagram dove adesso cercheremo di essere più presenti e anche un blog soprattutto un blog che io sto rivedendo sto cercando di rendere un po' più presentabile quindi potete venerli in questi in questi social interagire con noi io ho sbagliato malamente perché se non vi rispondo è perché io sono vecchia quindi ci sto ancora prendendo la mano però se avete qualche gioco da contigiarci a noi ci fa piacere quindi se non ce l'abbiamo cercheremo di acquistarlo se ce l'abbiamo ne parleremo al più presto se non ce l'abbiamo e voi io v'avanza ce lo potete pure regalare grazie per aver visto questo video e per seguirti sempre alla prossima ciao 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 ciao